Uno di noi! Natalia! 21 e 15, noi siamo puntuali, vogliamo capire di che si tratta, cos'è questo Happy Minutes. Diamo! Happy Minutes. Gli orari sono i più assurdi, 21, 15, 11 secondi, 21, 18, 33 secondi. Un casereccio Happy Hour fuori dalla sacrestia. Ognuno porta qualcosa da mangiare e si passano momenti allegri in compagnia, alla faccia della crisi economica e religiosa. L'idea è di Don Antonio Lobalsamo, il sacerdote della parrocchia immacolata di Adelfia, in provincia di Bari. Ogni domenica e quando è possibile, anche in settimana, il sacerdote invia centinaia di sms invito e i parrocchiani sembrano gradire. Abbiamo preso l'abitudine di ritrovarci, i ragazzi, qualche bambino anche, giovani, adulti e qualche anziano, per la voglia di stare insieme. Io dico sempre che noi viviamo in un mondo di solitudini. Allora, il fatto che stiamo insieme è già una gran bella cosa. Facciamo comunità. Comunità. Buono. È abbastanza affollato questo Happy Minutes. Ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti, il cibo non manca, speriamo che siamo sempre più numerosi. Vieni qui per stare con gli altri. Certo, sì, sicuramente solo per questo. Mi vergogno. Vai Don Tonio. E si sta meglio con gli altri con le brusche. Certamente. Cosa possiamo dire a chi non frequenta questo Happy Minutes? Che si perde molto. Poi è gratis. Appunto. No? È certo. Di questi tempi vuoi me. Mi cogli di sorpresa, non riesco. La trovo in imbarazzo. Vabbè, guarda, esco. L'organista è imbarazzato. E intanto. Prego, mangi, mangi. Pasquale, Pasquale, Pasquale. È uno... L'acclamano. L'acclamano. È uno di quelli che maggiormente partecipa a questo. Sono uno dei più assidui. Noi qua vi aspettiamo. Poi, Papa Francesco ci sta ripetendo da un po' di tempo che senza amore il nostro mondo è nullo. È nullità. Per cui vogliamoci bene, veramente. Adelfia, parrocchia. Immacolata. Immacolata di Canneto. Attenzione. Ogni domenica? Sì. Più o meno le 21.15? Domenica e qualche giovedì. E qualche giovedì. Non tutti. Informatevi prima. Qui, come si chiama sta strada? Strada a lunga. Strada a lunga siete tutti... Via a lunga. Siete tutti invitati. C'è da mangiare per tutti. Provvede lei, no? Sì. Non provvede lei. Venite. Si mangia.